video contorto io e i miei brufoli ragazzi sto mangiando non male di più allora video contorto perché non so esattamente come mi esprimerò e penso che dovrò rifare questo video 800 volte ma speriamo di inaugurare un po' allora il mio dubbio è ho chiesto, ho spostato un flowchart l'altro giorno il flowchart del governo praticamente bambino che fa il tampone allora classe in quarantena bambino non il bambino che ha avuto il tampone positivo perché quello lo sappiamo che deve rifare questo benedetto tampone e vabbè bambino compagnetto di classe da una parte del flowchart bambino che fa il tampone ha il consenso al tampone tra virgolette rientra a scuola se il tampone è negativo dall'altra parte bambino che non ha il consenso al tampone rientra a scuola se il tampone è negativo ok non capisco e l'opzione non avrà il consenso né ora né mai cioè che cosa succede se il bambino non fa il tampone ab eternum l'ho chiesto al preside della mia scuola e il preside della mia scuola mi ha risposto che non è prevista questa opzione molto semplicemente allora dunque ho chiesto se si tratta di un TSO e mi è stato risposto che sì praticamente no non si tratta di un TSO ma praticamente sì perché nel momento in cui tu ti rifiuti di fare il tampone ovviamente poi la TS deciderà che tu non sei un bravo genitore che non tuteli il tuo figlio e non tuteli la società e quindi te lo faranno fare per forza anzi ha fatto così con le manine ha detto beh poi valuteranno loro insomma una minaccia non c'è bisogno neanche che ve lo spiego dunque oggi esce sul radio giornale telegiornale non è un telegiornale oddio un internet giornale un rete giornale di border nights al minuto 10 proprio 10 spaccato dura 20 secondi quindi guardatevelo magari vi metto il link una comunicazione della regione toscana che dice che appunto al punto 9 il bambino senza tampone negativo non rientra a scuola ora io mi chiedo allora una serie di questioni uno cosa succede al bambino quindi gli viene tolto il diritto dovere all'istruzione viene reindirizzata una didattica una didattica homeschooler perché la didattica a distanza è garantita soltanto se anche la maestra è in quarantena quindi non si sa non mi è stata data risposta perché il preside mi ha risposto molto semplicemente sì anche io me la sono chiesta questa cosa ma mi sono risposta che tanto la cosa è così si rientra soltanto col tampone e se poi non viene fatto io faccio una segnalazione all'ATS e sono cazzi vostri ok chiaro però ho altre due considerazioni allora intanto abbiamo visto che il 96% dei positivi è asintomatico e seconda cosa abbiamo considerato che il 96% appunto di questi cioè che dei positivi è asintomatico e che abbiamo decretato con le ultime nuove regolette che dopo 21 giorni queste persone la carica virale scende talmente tanto che anche se hai il tampone positivo puoi uscire tranquillamente di casa ora perché un lavoratore può tranquillamente essere considerato asintomatico e non più contagioso e un bambino e quindi dopo 21 giorni di fiduciaria non può rientrare a scuola mi domando non si sa seconda cosa siccome questa normettina è stata specificata dalla regione toscana cosa ne è di tutte le altre regioni perché non lo specificano nella stessa maniera forse c'è un ruoto legislativo forse questa roba poi non è poi così legale forse il presidente non avrebbe neanche dovuto dirmi quella frase non lo so stanno preparando un giochetto a voi e l'ardua sentenza ragazzi io devo fare qualcosa per questi brufoli perché veramente sto mangiando malissimo guardate qua ma beh consigli qua qua come un terzo occhio mi ha spuntato ragazzi no vabbè allora mettiamo io mi gratto tutto il giorno per nervosismo però che cavolo a voi Ciao!